Fine della vicenda, fine anche delle speranze. Ormai è una certezza, il Cerignola parteciperà al prossimo campionato di Serie D. Il Tar del Lazio, che doveva esprimersi già nella giornata di ieri e lo ha fatto invece nella tarda mattinata di oggi, ha dato ragione a FIGC e Lega Pro di contro, non al Collegio di Garanzia del Coni e di conseguenza alla società Ofantina. Il Tribunale amministrativo infatti ha accolto la domanda cautelare e disposto alla sospensione dei provvedimenti impugnati, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica l'11 febbraio del 2020. Si conclude così una calda e incredibile estate in cui per il Collegio di Garanzia del Coni il Cerignola aveva i presupposti per essere ripescata in Serie C, per FIGC e Lega Pro invece no. Non ci sarebbe più voglia, così sembra, di continuare questa battaglia con le istituzioni calcistiche da parte della società del presidente Nicola Grieco. Ora le attenzioni dovranno essere concentrate soltanto sul campo e sul mercato. Domani infatti è in programma il battesimo ufficiale nella nuova stagione. La squadra allenata da Alessandro Potenza ospiterà a partire dagli ore 15 il Gravina nella gara secca del primo turno di Coppa Italia di Serie D, poi spazio al campionato e l'esordio di domenica al Monterisi contro la matricola Lucana Grumentum Valdagri. Gli Ufantini, a causa del ritardo accumulato in questo avvio di stagione, dovranno cimentarsi in un vero e proprio tour de force con cinque incontri di Serie D in due sole settimane. Dopo il Grumentum ci saranno le sfide contro Casarano tra le Muramiche mercoledì 18, il Brindisi in trasferta domenica 22, l'Andria al Degli Ulivi mercoledì 25 e Foggia al Monterisi domenica 29 settembre. Sul fronte mercato, intanto il Cerignola si è assicurato le prestazioni di Luca Sindlic, centrocampista di 26 anni che nella passata stagione ha giocato nella Serie B della sua nazione con il Sindelic Belgrad e fatta nella zona nedragica del campo. Pure per Francesco Muscatiello 2001 che con il DS Elio di Toro è stato di recente a Foggia e con i Rossoneri ha giocato lo scorso campionato primavera.